Grazie per le soluzioni, guardate la difficoltà con cui l'Italia è il futuro, ma che la città è scelta da un'altra parte contro l'altro. Dobbiamo mettere un'entrata tra gli insiders e gli altri. E abbiamo bisogno di un'altra cosa, che anche i giovani saranno loro e diventano membri di un'altra parte. Tutte queste cose dobbiamo fare. C'è sulla nuova legge territoriale che potrebbe subire delle modifiche proprio del Parlamento europeo se vanno nella direzione di una maggiore vicinanza con i cittadini, di una maggiore partecipazione democratica anche alla vita delle istituzioni europee. C'è anche la donna nel protocollo. Sì, che è con noi proprio in attesa, con i bambini che ci hanno fatto questa cortesia. Tutto bene? Sì. Pronti, in grado, il nostro tempo è aperto. Ciao. E mira, ora va. E io sì, direi... Sì, andiamo dentro. Siamo in perfetto orario. Grazie. Grazie. Grazie.